...a meno valore dell'innovazione... ...diamo dire, quindi le ceste con la cera di vizio... ...di un attimo, siamo molto anche ripresati a due anni si darà... ...uno credo che, l'abinetto portoghese, siano stati contesti... ...però non sapere che la cesta è la testa... ...che le piazze, quindi la cesta è stata molto reale qualificata... ...desso sono i 10 centi... ...se non sono gli altri chef di buono... ...ma si può togliere? ...no, potremmo aspettare ancora... ...giù non va... ...no, però mi hai pensato a chiedermi... ...a parte la chiesa... ...ma in questa parte... ...voce le v espa... .... comune Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, 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 oggi è una degustazione per tutti. Grazie. Prego. Ancora inizia? Verso le 11 e mezzo, metto giorno, appena hanno finito di parlare. Perfetto. Prego. Che carino così piccolo, bello, che telecamera, che comoda, piccolina. Perfetto. 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 Buongiorno, buongiorno. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.